Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Marco Picciola 2 drink e oggi faremo il Gin Nene Il Gin Nene è un drink inventato da Luca e oggi ci spiegherà come si fa Il Gin Nene ci vuole un'oncia di vodka quindi un bubble chew a parte che un bubble chew è rimetto un'oncia bubble for poi ci vuole un'oncia di vodka hai già sbagliato, rimettilo là dentro il ghiaccio allora il Gin Nene ci fa con vodka Gin, Sour Mix e Acqua Tonica le dosi sono un'oncia o un'oncia tre once e top va bene, prendiamo la vodka cominciamo con la vodka ma questo drink da dove è nato? ah, questo drink è nato sostanzialmente da due propositi nel senso che il mio drink preferito è il Gin Tonic volevo fare insieme il Gin con il Sour Mix per vedere un po' cosa succedeva, no? e quindi l'ho chiamato Gin Nene uno perché non è né un vodka sour né un Gin Tonic e due perché è un drink dedicato alla mia amica di Miano che si chiama Irene questi? Irene, questo è per te no potrò essere poi il peccione non è pronto, posso scelgarla? scelgarà tutto, ti prego ci ha messo un tocco da 5 non capito che cazzo 12 12 l'ultimo ingrediente Marco è un top di Tonic sai cosa vuol dire Tonic? no, non so neanche sai vuol dire Top Top vuol dire che è sopra guardate, guardate Top ma non è che sarò scemo però che a un certo punto ok, come guarnizione una fetta di limone e poi due cannucce è giunto il momento di assaggiare i drink verrà il nostro fotografo ad assaggiarli e dirà dai su devi giudicare qual è il migliore no, non fare il timido eh, non fare il timido che timido è? io lo raccomando, devi anche dire quello più buono qual è il più buono? io devo sempre bere su qualche quello profumo è il mio quello di Marco anzi del Marco che non lo parliamo, mettiamo nei articoli di il Marco e il Marco e il Marco qual è il resto di più? non ne berrei neanche uno per il semplice fatto no, c'è una spiegazione no, perché il limone me lo fa il pazzito aspetta, l'abbiamo già fatto un momento, io sparisco allora, tu vuoi salutare qualcuno? io voglio salutare la mia famiglia ciao mamma ciao Ari, sono in televisione e allora in questo voglio salutare tutti i miei amici di Milano diciamo l'idea che appunto è dedicato a questo video e tutti i buoni sono vi lascio il link per il suo profilo Instagram in descrizione che apparirà qua il suo nome con Instagram qua in Milano lì davanti sto indicando bene il fotografo va benissimo lì davanti il link del fotografo il mio più grosso che cosa in tutti i sensi vi invito a lasciare un like un commento iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti